E' come il vento letto Bentornati a tutti voi Allora, ora abbiamo detto Ripartiamo dal fisco Dall'economia, in particolare ha detto Aurora In finale di primo tempo Definiamolo così Partiamo con i sindacati Perché effettivamente le aliquote IRPEF Scendono da 5 a 4 Viene eliminata quella del 41% Almeno questo è il pacchetto che è stato presentato Proprio in una riunione al Ministero dell'Economia E delle Finanze Dal Ministro Franco ai leader dei sindacati CGL, CISL e UIL Però questa riforma Delle aliquote IRPEF E in particolare la manovra Non sono piaciuti alle forze sindacali Anzi, siamo di fronte A una vera e propria rottura Fra sindacati e governo Per il leader della CGL Maurizio Landini La riunione è andata male Lui stesso ha chiarito che assieme Valuteremo tutto ciò che è necessario Per far cambiare idea Governo e maggioranza E intanto in Parlamento Sono più avuti Come abbiamo visto nella prima parte Della nostra trasmissione Oltre 6.000 emendamenti Cercheremo di capire qual è la situazione Se questa frattura è sanabile E il punto di vista delle sigle sindacali Proprio con la Vice-Segretario della CGL Gianna Fracassi Buonasera Buonasera a tutti e a tutte Grazie per aver accettato il nostro invito Vice-Segretario Allora, cos'è che reputate più inaccettabili Di questa manovra? E prendendo spunto dalla grafica Insomma, dal titolo che abbiamo voluto dare A questo blocco Ci sono margini di manovra, di intervento? Cioè margini di miglioramento? Ma questa è una delle domande Che abbiamo fatto al Ministro Franco E la risposta che ci è stata data Sostanzialmente è che Gli unici interventi possibili Sono nell'ambito dell'accordo Che è stato trovato Tra le forze politiche La settimana scorsa Quindi praticamente sono Dei margini Minimali Direi quasi nulli Vice-Segretario A proposito Lo stesso Landini Ha definito Questo piano Questa manovra Contrario Alla progressività In particolare Sul taglio dell'IRPEF Perché Il taglio delle tasse Non vi soddisfa? No, attenzione Qui non è una questione Di taglio delle tasse Qui il tema Sono gli effetti E gli obiettivi Che si vogliono mettere in campo Perché altrimenti Facciamo un'affermazione Che come dire È generica No? Allora Il tema Che noi abbiamo posto È il seguente Tenga conto Che le cose Che dirò Sono Sono temi E punti Condivisi Anche con Che's the will Perché Sul versante fiscale Noi in questi anni Abbiamo lavorato Sempre insieme Abbiamo anche una piattaforma Unitaria Che abbiamo presentato Al Parlamento Abbiamo presentato Ai vari governi Che si sono succeduti Quindi Su questo C'è un lavoro comune Che va avanti da anni Quali sono i punti Che non ci convincono? Ma prima di tutto Gli effetti regressivi Ridurre un'aliquota E soprattutto Ridurre un'aliquota La terza Quella che va Dal 38 Al 35 Determina Ovviamente Degli effetti Che hanno Un trascinamento Diciamo Anche sui redditi Elevati O molto elevati Tenga conto Che Dalle nostre simulazioni Chi oggi In questo paese Guadagna 100.000 euro 200.000 euro 300.000 euro All'infinito Avrà un vantaggio Fiscale Di 280 euro Circa Chi ne guadagna 5 volte tanto Prendendo a riferimento I 100.000 Avrà un vantaggio Fiscale Probabilmente Inferiore Allora Il punto è Poiché si tratta Di un intervento Che non è collegato Con la riforma fiscale Perché questo C'è stato detto Con chiarezza Anche dal ministro Franco La riforma fiscale La legge delega In corso di definizione Quando Si troveranno Anche le risorse Per sostenerla Che appunto Mi sembra Non banale E quindi Con le prossime Leggi economiche Si avvierà Da questo punto di vista Anche un intervento Complessivo Questo è scollegato Da un quadro generale Di riforma fiscale E quindi A nostro parere Dovrebbe essere Finalizzato A chi oggi Ha più bisogno A chi oggi Ha necessità Di avere Un intervento Fiscale Di sostegno Chi sono Questi soggetti Sono coloro Che hanno Redditi bassi O medio-bassi Sono i giovani Sono le donne Sono i precari Sono i pensionati Con Reddito La pensione Molto basso Credo Che Questa scelta Che non è quella Che è stata fatta In sede Di accordo Sia importante Soprattutto Per dare una risposta Le do Un dato Tanto per capirci Noi abbiamo All'incirca 5 milioni Di lavoratori Che guadagnano Meno di 10.000 euro Se andiamo a vedere Chi sono Tante di loro Sono precari Tante sono donne Con part time In volontario Allora Io credo Che su questo tema Anche la leva fiscale Possa Diciamo così Inserirsi Per dare anche Una risposta Sul versato Da questo punto di vista Tra l'altro Tenga conto Che avevamo fatto Anche delle proposte Ci sembravano Di buon senso Allo stesso presidente Del consiglio Che avrebbero avuto Anche in una fase Come questa Avete ricordato Diciamo così Anche il quadro economico Quindi l'inflazione Quindi il costo La vita che aumenta Soprattutto Sui redditi bassi Fa la differenza Avere o non avere Qualche risorsa In più Ma quindi Dice segretario Mi perdoni Secondo voi Bisognava allargare La no tax area E se sì Fino a che Soglia di reddito No No Non bisognava allargare La no tax area Anche perché Per Diciamo Sotto i 15 mila euro Sarebbe Irrilevante Ai fini fiscali Perché già C'è un Diciamo Una no tax area Di fatto Chiamiamolo così Un'incapienza fiscale Molto più alta Di quella che è Determinata Dalla legge Cioè Agli 8.140 Irrotti euro Noi abbiamo Fatto una proposta Sui redditi Sotto i 15 E 20 mila euro Da valutare L'unica possibilità Di intervento Oggi Per evitare Che alcuni Di questi Lavoratori Lavoratrici Non abbiano La capienza Fiscale Per poter Accogliere Un'ulteriore Detrazione Era lavorare Sul lato Dei contributi Sociali E quindi Fare un intervento Da determinare Lato Lavoratori Poi Abbiamo proposto Che invece Per tarare Meglio L'intervento Cioè Per fare Un intervento Che disegnasse Sulla base Delle necessità Una restituzione Chiamiamola così Di risorse Sul versante Fiscale Abbiamo proposto Di agire Sulle detrazioni Fino a 35 40 mila euro Quindi di fare Anzi 50 mila euro Cioè di fare Un'operazione Che come dire È disegnata Su alcune Fasce di reddito Quelle che crediamo Oggi Sono più in sofferenza Che sono poi Quei lavoratori E quelle lavoratrici Che hanno Sostenuto il paese Anche nelle fasi Più difficili Della pandemia E invece Vice segretario Fracassi Dal punto di vista Di chi ha un reddito Fino a 15 mila euro La liquida È rimasta fissa Si è rimasto Si è deciso Di rimanere Contrariamente a quanto Avete chiesto Al 23% Le chiedo Secondo lei Che segnale è Per i cittadini? Guardi Modificare Modificare Quella liquida Per quelle classi Di reddito Non avrebbe Determinato Nessun vantaggio Fiscale Un vantaggio Fiscale Molto limitato Perché Quelle classi Di reddito Ripeto Hanno già oggi Per effetto Delle detrazioni Che Individualmente Hanno A prescindere Dal fatto Che appunto La detrazione Da lavoro Dipendente Da pensione Opera Già oggi Sono in una condizione Di scarsa Capienza fiscale Le faccio un esempio Tanto per capirci Se io Detrazione Da lavoro Dipendente Poi detraggo Le spese Universitarie Per l'istruzione Per i figli E le medicine Probabilmente In quella fascia Di reddito Non posso più Intervenire Quindi Ridurre lì L'aliquota Non avrebbe Allargato La capienza fiscale Su quelle Su quelle Fasce lì Bisogna intervenire Con un altro Strumento Tra l'altro Le dico Che proprio In quella Riunione C'è stato Proposto Un intervento Temporaneo Sui contributi Sociali Quindi Anche Andando nella direzione Da noi stessi Proposta Da parte Del ministro Franco Ma il problema Qui non è La temporaneità Noi vogliamo Interventi Strutturali Soprattutto vogliamo Che si riequilibri Questo Tratto Di questo Intervento Che Che mette Tante risorse Su fasce Soprattutto Alte Altissime Se voi andate A vedere Il top Diciamo Si raggiunge Sui 60 70 mila euro Attenzione Lo dico subito Qui non è Non c'è la volontà Di mettere In contrapposizione I lavoratori Tra di loro Ma c'è bisogno Oggi Di guardare Di fare anche Un'operazione Di solidarietà Che credo sia Importante In questa fase Guardiamo Quello che sta Accadendo Teniamo conto Che il nostro Paese Ha avuto Un impatto Sulla massa salariale Molto più ampio Rispetto agli altri Paesi europei Detta in parole Povere Abbiamo più Lavoratori poveri Rispetto al resto Dei paesi europei Eh sì C'è stata una contrazione Dei salari Esatto Del nostro paese E quindi Anche la leva fiscale Non dico che è Risolutiva Non voglio dire questo Però può aiutare Quella massa Di working poor Come si chiamano Working poor Come si chiamano Che oggi fa Fatica E ha difficoltà Quindi Ecco Direi Un intervento Che tenga conto Maggiormente Di un profilo Di equità Lei prima Ha parlato appunto Di risorse Che sono state Messe in campo Però Nello specifico Forza Italia Di cui noi poco fa Abbiamo avuto Un esponente Senatore Damiani Ha chiesto Che la cifra Destinata Alla riduzione Fiscale Salga Da 8 miliardi Almeno Fino a 10 Condividete Questa linea Dipende Per fare cosa No perché Io No Le spiego Perché io Letto anche Sto leggendo Un po' Di emendamenti Che circolano Ah Dei Quelli 1108 Sono 6.000 6.300 Sono sbagli Ormai Siamo arrivati Noi eravamo Facciamo Imperimento Solo a Forza Italia Vero Sono 6.000 In tutto Perché fa parte Del mio lavoro Anche dare Come dire Uno sguardo E non è Sicuramente Una cosa Un po' Complessa Però ho visto Gli emendamenti Ho visto Gli emendamenti Dipende Per fare cosa Se l'obiettivo È quello Di dare più risorse Sul versante Del lavoro Dipendente E dei redditi Da pensione Noi siamo Anche d'accordo Ho qualche Perplessità Che si possano Trovare le risorse Mi risulterebbe Che il Parlamento Ha a disposizione Per gli emendamenti Circa 600 milioni Quindi La vedo dura Se invece L'obiettivo È quello Di allargare Queste risorse Per allargare Anche L'intervento Sull'IRAP Dico con chiarezza Che non siamo D'accordo Perché una delle cose Che abbiamo detto Al Ministro Franco Che troviamo Inconcepibile In una fase Di pandemia Che si riducano Si anzi Si cancelli Per alcune categorie L'imposta Regionale Pagata appunto Da imprese E amministrazioni pubbliche Che come sappiamo Va a sostenere Il servizio Sanitario nazionale Ecco Lo troviamo Francamente Inconcepibile Poi abbiamo avuto Rassicurazioni Che non ci sarebbero state Diciamo Dei finanziamenti Però C'è Due punti Il primo È che ovviamente Se non ci sono Dei finanziamenti Paga il bilancio Dello Stato Quindi la fiscalità Generale Seconda questione Abbiamo segnalato Al Ministro Un problema Molto serio Che le stesse regioni Hanno posto Nei giorni scorsi Vale a dire A partire Guardi Dalle regioni Che come dire Da questo punto di vista Hanno sempre avuto I punti in ordine Penso alla Emilia Sanitaria Per queste regioni È molto alto Non vorremmo Che poi Questo Il combinato Disposto Di queste operazioni Determino Un appesantimento Della tassazione Locale Perché questo Sarebbe francamente Insomma Una partita di giro Un po' Beffarda Per i cittadini Le cittadine E per i lavoratori E per i lavoratori E le lavoratrici Per cui Due volte Come si dice Pagano In qualche modo L'effetto Di misure Che a nostro parere Sono sbagliate Vice segretario A proposito Noi con Il senatore Che abbiamo avuto Damiani Abbiamo parlato Anche del reddito Di cittadinanza Una misura Che comunque Vede Forza Italia Molto più vicina Al Movimento 5 Stelle Teniamolo E riformiamolo Perché come ha detto Silvio Berlusconi Ha aiutato Anche le fasce Menobbienti Della popolazione Le chiedo Un parere Sul reddito Di cittadinanza Guardi La nostra organizzazione Mi scusi Se le faccio Questo escurso Storico La nostra organizzazione Insieme a tante altre Nell'alleanza Contro la povertà Ha sempre sostenuto Da anni La necessità Di un intervento Di uno strumento Di contrasto Alla povertà Avevamo lavorato Sul REI È stato trasformato In reddito Di cittadinanza Diciamo questo Molto chiaramente L'ex reddito Di inclusione Esatto Esatto Mi scusi Dopo è scontato Gli acronimi Che non va bene Lui è qui per questo Ecco Si preoccupa Benissimo Prego Vice segretario Tornando a noi No Le dicevo Che noi abbiamo Riteniamo che sia Assolutamente Importante Avere uno strumento Di contrasto Alla povertà Non va cancellato Non va ridotto Va sicuramente Migliorato La parte Diciamo così Lavoristica Ha determinato Un po' Di problemi A noi Non sembra Che l'intervento Che è anche Legge di bilancio Risolva Questi problemi Per cui È bene Che tutte le forze Politiche Lavorino Per migliorare Quello strumento Perché noi Abbiamo In questo paese Un aumento Sia della povertà Assoluta Che della povertà Relativa Non possiamo In una fase Difficile Come questa Non dare Delle risposte A chi oggi Si trova In difficoltà Perché ha perso Il lavoro Magari O perché si trova In una condizione Di difficoltà Legale Alla malattia Le casistiche Sono tante Poi Con grande Nettezza Dico anche Che si deve agire Ovviamente Per monitorare Per fare i controlli Trovo però Un po' Come dire Un po' Bizzarro Ecco Uso questo termine Che ci si Scandalizzi Moltissimo Ho visto Il dibattito pubblico Che si è aperto Sui giornali No Per i furbi Del reddito Di cittadinanza Allora Chiamiamoli Con il loro nome E cognome Chi sono queste persone Sono evasori Fiscali Ecco Allora Le dico Che vorremmo La stessa Diciamo Presa di posizione Forte Lo stesso impegno Anche nel contrasto All'evasione fiscale Che in questo paese Pesa per cento Miliardi L'ultima relazione Ci dice questo Cento miliardi L'anno Quante cose Potremmo fare Con cento miliardi A partire Non soltanto Dalle risposte Ai lavoratori pensionati Ma per esempio Per rafforzare Il nostro sistema sanitario O per dare risposte O per dare risposte Sul versante Del miglioramento Dell'istruzione Del sistema O per il salario minimo Anche Ad esempio Che è un altro Argomento Di cui si discute Direi Legittimamente Con cadenza Con cadenza Però Purtroppo Biennale Definiamo la cosa Esatto Ma tornando Alla rottura Insomma Che sarebbe andata in scena Lunedì Sì Con Il 29 novembre Dopo l'incontro Tra voi E Mario Draghi Ma c'è davvero All'orizzonte Lo spettro Di uno sciopero Generale? Guardi Noi stiamo Facendo Già adesso Una mobilitazione Unitaria Che Nelle settimane Scorse Ha visto La partecipazione Di tanti Lavoratori Lavoratrici È una Mobilitazione Che ha un calendario Piuttosto lungo Direi così Il prossimo sabato Per esempio Avremo Tutta Un'altra Serie di Momenti Regionali Manifestazioni Regionali E stiamo Contestualmente Facendo un piano Di assemblee Dove raccontiamo I contenuti Della manovra E spieghiamo I lavoratori Alle lavoratrici Quelli che sono Anche i punti Di criticità Faccio questa Premessa Per dire Questo Che così Come noi Abbiamo sempre Da questo punto Di vista Lavorato Per costruire Insieme I percorsi Di mobilitazione L'intensificazione La scelta Degli strumenti È uno Delle discussioni Delle decisioni Che prenderemo Insieme a Cisle Will Per cui Non anticipo Cose sulle quali Si sta discutendo In queste ore Io credo Comunque Che rafforzare Queste iniziative Mettere in campo Anche uno strumento Di pressione sociale Nelle prossime Settimane Sia utile Per far capire Che C'è bisogno Di un cambio Su alcuni versanti Noi abbiamo Parlato oggi Di fisco Aggiungerei Che c'è un tema Che si chiama Pensioni C'è un tema Che abbiamo posto Che si chiama Precarietà E giovani Perché Diciamolo con chiarezza Un altro che si chiama Sicurezza sul lavoro Giusto Sicurezza sul lavoro Certo Su quello qualche risposta Nel decreto È stato dato Anche frutto Di un confronto Penso che non sia sufficiente Non è mai sufficiente L'intervento sulla sicurezza Soprattutto nel nostro paese E quindi I temi ci sono Sono tanti E evidentemente Comportano anche Probabilmente Un cambiamento Di passaggi fondamentali Di quella manovra Vice segretario Lei ha parlato Di cambio Di cambiamenti Ecco Magari Dal vostro punto di vista Servirebbe anche Un cambio di interlocutore Perché effettivamente Mi sembra che Il segretario Della CISL Luigi Sbarra Sia stato particolarmente Caustico Nei confronti Del ministro dell'economia Franco Definendolo però Molto diplomaticamente Indisponibile Penso che Il ministro dell'economia Risponda Risponda in qualche modo A quella che è Un input del governo Quindi come dire Agisca Su un mandato Questo penso io Quindi veniva da Draghi L'impostazione così Rigida Veniva dall'accordo Di maggioranza Che è stato fatto Questo ci è stato detto Con grande nettezza Quindi è evidente Che il ministro Franco Ci ha raccontato E ci ha detto Quello che è il perimetro Di quell'accordo Questo è il punto Quindi va detto Vi ha messo sul tavolo L'accordo parlamentare Ha detto Questo è Non è parlamentare L'accordo L'accordo Della forza di maggioranza Giusto Con le forze politiche Di maggioranza Quelle che compongono Questo governo Quindi evidentemente Lui Devo dire Con correttezza Rispetto ai partiti politici Ha messo in campo Quella che è stata La sintesi Ora cioè Il problema qual è È che però Ci si era impegnati Nello stesso tempo Quelle stesse forze politiche Questo stesso governo Ad affrontare Ad aprire un confronto Su questi temi Ma non con voi È molto complicato Per noi Discutere di un accordo Che non si può Non si può toccare Non si può cambiare Capisce che C'è un problema Dove non ci sono Insomma Margini di manovra Citando appunto Il nostro capitolo La nostra didascalia Vice Secretario Ma invece Entrando nel merito Di un'altra Situazione Che Sembra un po' Allarmante Ovvero L'inflazione Al 3,8% Come non si vedeva Dal 2008 Ecco In vista Del Natale Cosa cambia Come cambia La situazione Per i lavoratori Italiani E cosa dovrebbe fare L'esecutivo Per intervenire Ma questo è un tema Molto complesso Perché da un lato Noi abbiamo i problemi Che dicevo in premessa Quindi un impoverimento Dei salari Un impoverimento Delle condizioni Delle persone Dall'altro Abbiamo questo tratto Dell'aumento Dell'inflazione Che a livello europeo Si sta Diciamo così Calmierando Mettiamola in questo modo La banca centrale Intervenuta più volte Ha sempre indicato Nella temporaneità Il tratto Di questa fase Molto legata All'aumento Degli energetici È evidente Che Politiche Di questa natura Non si affrontano Solo ed esclusivamente Nel nostro paese Io credo Che sia urgente Da questo punto di vista Anche un'azione europea Perché questo Evidentemente è un problema Poi ci sono Dei nodi da sciogliere Sul versante Per esempio Di quelli che saranno Gli investimenti Da mettere in campo Per dare risposte Anche a un cambio A una transizione Energetica Che il nostro paese Doveva fare È evidente Che finché Noi siamo Nella Diciamo così Nell'ambito Di quelle che sono Le decisioni E le scelte Prese da altri paesi Diventa molto complicato Per questa ragione Dobbiamo accelerare Sul versante Delle politiche Legate alle rinnovabili Alla nuova trasformazione Da questo punto di vista E finché non faremo questo Saremo sempre collegate Al gas E quindi Anche a delle scelte Che sono spesso Scelte Diciamo Geopolitiche Di ristrutturazione Geopolitica Delle forze In campo Poi c'è un tema Molto serio Sulle materie prime Ora è un po' complesso In pochi secondi Spiegarlo Ed è legato Anche alla ripartenza Diciamo Che si è determinata Nei mesi scorsi Quando sembrava Che la fase pandemica Si fosse abbassata Anche quello È altro tema Serissimo Da prendere In considerazione Ma non lo affrontiamo Solo in Italia Ecco Il tema è questo C'è necessità Che su questo versante Anche l'Unione Europea Anche la Commissione Faccia interventi Che possano sostenere Le economie In una fase In cui tra l'altro Proviamo a cogliere Come Europa Anche le due grandi transizioni Quella verde E quella digitale Vice segretario In conclusione Lei prima ha parlato Di pensione Un altro Di quei temi Che sono ancora Sul tavolo Quale futuro Per il sistema pensionistico Nel nostro paese Fra quota 102 E il ritorno Alla riforma Fornero Beh Se è così È un È un futuro Che Come dire Tiene fuori Un pezzo importante Del lavoro A partire dai più giovani Ecco Non è che Noi abbiamo fatto questa domanda Perché siamo interessati Per carità Però noi siamo interessati Invece Siamo interessati Perché è chiaro Che oggi abbiamo Un problema Noi oggi abbiamo Un contesto Di precarietà Dilagante Di discontinuità Nei rapporti di lavoro E oggi Questo significa Che se non mettiamo Dei correttivi I precari di oggi Saranno i poveri I pensionati Di domani Allora Il tema della pensione Di garanzia Per i giovani Per noi è fondamentale Due Dobbiamo cambiare Anche il modello Di uscita Di calcolo Della pensione Perché i lavori Non sono tutti uguali Oggi Come dire C'è necessità Assoluta Di intervenire Su quelli che Vengono definiti Lavori gravosi Perché una cosa A proposito di salute E sicurezza Una cosa È uscire Con le regole Della Fornero Facendo Un lavoro Che come dire Non ti espone Anche dal punto di vista Della pesantezza Della fatica Altra cosa È uscire Con le regole Della Fornero Quindi molto in avanti Nell'età Facendo magari Le dile Arrampicandosi Sulle impalcature Per fare il tuo lavoro Poi non ci possiamo Meravigliare Se abbiamo Anche un alto numero Di morti Sul lavoro Di infortuni Soprattutto In alcune professioni In alcune categorie Che sono più esposte Anche a dover lavorare Più a lungo Proprio perché Non hanno un'uscita Quindi io Poi c'è le donne Il lavoro di cura Insomma Ci sono tante questioni Quindi Chiedere che A dieci anni Da quella riforma Si faccia Una analisi Di quello che ha funzionato Dei problemi del paese Della possibilità Di flessibilità Anche nell'uscita Io credo Che sia Di buon senso Altrimenti Rimaniamo Incastrati In una dinamica Che è ideologica E è intoccabile E noi crediamo Che bisogna Da questo punto di vista Riaprire la discussione E per questo Che ci sarà Un tavolo Su I temi previdenziali Speriamo Non ci sia Anche in quel caso Una rottura E che A partire dal Ministro Franco Ma tutti Tutti gli altri Tutti l'esecutivo Siano più disponibili Vice segretario Noi la ringraziamo Per essere stata qui con noi Per averci fatto capire E per portare avanti Le problematiche Le stanze Dei lavoratori Grazie a Gianna Fracassi Vice segretario generale Della CGL Le auguriamo Una buona serata Un buon lavoro E alla prossima Grazie Grazie mille Buonasera Buonasera E grazie anche a voi Per averci seguito Sempre dai nostri Trespoli Anche oggi Con gioia Vi salutiamo Da questi Trespoli Ci vediamo domani Alle 18.30 Linea al TG Grazie a tutti